Che il tuo Natale sia lucente come un cristallo di neve Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per Te Buongiorno e bentornati per una nuova card, un nuovo bigliettino per augurare un Natale splendente a chi amiamo Eh sì, una card più tradizionale ma una card pop up Quelle che aprendo le fanno venire fuori un soggetto Ho scelto per voi il cristallo di neve Io l'ho fatta con materiale della Bobbani Ma voi potete farlo con qualsiasi tipo di carta e qualsiasi tipo di abbellimento La cosa particolare di questa card infatti è la costruzione interna Che vedrete, potrete fare veramente con materiali molto molto semplici Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare il nostro capolavoro Ed eccoci pronti per preparare un'altra bellissima card di Natale Oggi un pop up tutto glitteroso che farò con i materiali della Bobbani Perché lo sto creando per un loro progetto, per il loro blog Ma lo condivido con voi, tanto anche se non usate il materiale della Bobbani Verrà bellissimo lo stesso perché vi dirò tutte le alternative che potrete usare Allora, ci occorreranno una spatolina La pasta glitterata Vi ho insegnato come farvela a casa, vi metto qui il link Un colore gommoso glitterato Io usarò questo della Bobbani Color grigio, grafite e silver Ma vi ho insegnato come farli Qui trovate l'ai col pallino Con tutte le indicazioni L'unica differenza è che questi sono perlati Se volete fare diventare perlati anche questi che vi ho insegnato a fare Basterà aggiungere un qualcosa di perlato al loro interno Come ad esempio un ombretto per gli occhi Un taglia balza Un paio di forbici Le immancabili squadrette Poi le carte per il nostro biglietto Io lo farò tutto con questi toni molto tenui Pur essendo Natale, quest'anno varo di azzurro E poi un pupazzo di neve per agghindare il tutto Ci occorrerà anche un rotulatore per carta e un bulino E poi al centro l'elemento pop up sarà proprio un cristallo di neve Che è il light motive di tutte le carte Qua c'è il cristallo, qua c'è il cristallo Queste e tutte le cristalli E io ne ho disegnato metà Me ne serve metà perché siccome deve essere esattamente speculare Girandolo sarò sicura che saranno estremamente corrispondenti E il cristallo di neve o ve lo scaricate da internet O lo andate a cercare sulla pagina facebook di Arte per Te Cristallo di neve card pop up Lo troverete e quindi potrete copiarlo uguale uguale Cominciamo La mia card sarà 12x12 Quindi devo ricavare un rettangolino che sia 12x24 cm Per creare la piega pressiamo con il bulino al centro Questo sarà l'interno della mia card Quindi lo piegherò in questo modo Allora nella parte esterna invece userò questa carta E la userò dalla parte delle decorazioni Quindi voglio fare una card In questo caso voglio fare una card leggermente più grande Di mezzo centimetro da ogni lato Quindi 24 diventeranno 25 E i 12 diventeranno 13 Pratichiamo la piega al centro Et voilà Quello che abbiamo è questo Molto carino L'interno è così E l'esterno invece E' così A questo punto dobbiamo lavorare sull'interno E con la mezza orma Che abbiamo Poniamola esattamente al centro E ricalchiamola tutta quanta Finito di ricopiare Diciamo così Ricalcare il nostro cristallo di neve Eccolo qua Voi vedrete ben poco Segniamo con una X Quattro dei lati del nostro cristallo Che sono nei due raggi obliqui Questo lato Quindi quello verticale Questo Questo E questo Che non andranno tagliati Tutto il resto Andrà tagliato Come? Con il bisturi E tanta pazienza Quindi Piano piano Rimanendo dentro i margini Ritagliate tutto Sganciamo la carta Lì dove deve essere libera Prendiamo un bulino E con un righello Passiamo Sui punti Dove non abbiamo tagliato Quindi Qui Qui E qui 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 E qui Ok? Giriamo la nostra card E All'interno del cristallo Passiamo il bulino Da punta a punta Così Quindi Andiamo a rintracciare Tramite la piega Il punto dove Non abbiamo tagliato E passiamo col bulino Questa volta ben bene Quindi Qui E qui E poi qui E qui Uno E due Quindi Puntiamo in fuori Il nostro cristallo E facciamo in modo Che le pieghe Pieghino appunto Qui E qui Ok Quindi Pieghiamo Quello che dovremo avere Sarà questo Ok? In modo che poi Quando apriremo Verrà fuori Il cristallo In questo modo Rimarrà Questi sono liberi Ma rimangono comunque Incastrati Dentro E permettono Al cristallo Di muoversi Facendolo Venire fuori Il cristallo Così È bello Ma dobbiamo renderlo Molto Molto Più evidente E allora Cosa facciamo? Prendiamo Un pezzo di carta Che non ci interessa Particolarmente Dobbiamo fare Una cosa Troppo carina Infiliamoci All'interno Del nostro cristallo E con la pasta Glitter Io userò Una spatolina Ma va bene Anche un pennellino Sporchiamo Tutto Il nostro cristallo Teniamolo Un po' Aperto Così E facciamolo Asciugare Completamente Sulla copertina Esterna Voglio fare Un richiamo Di colore Dell'interno Che poi Trasparirà Nei bordi E allora Cosa faccio? Prendo La squadretta E creo Una striscietta Che sia 5 cm 10 cm Per Abbiamo detto 13 Allora 10 cm Segno Segno anche Il 5 cm Perché mi servirà In un secondo momento La metà Per 13 Sulla metà Piego col bulino E andrò Ad appiccicare Questa Così Quindi Prendo Della Colla Anche con la stick Quello che volete Io per facilitarmi L'ambaradan Utilizzo sempre L'attacca tutto Ma perché mi trovo meglio Metto La colla Su tutto Così Aggiungo Una decorazione Che Prenda Una decorazione 3D Che riprenda La carta Ok Abbellito L'esterno Con un poco Di abbellimenti Ho messo Una fila di lucine Una scritta Buone vacanze E due campanelle Vado Ad arricchire Adesso Con il colore Perlescente Quello un po' Più gommatino Disegno L'intreccio Delle mie Campane E anche Con quello Silver Movimento Un po' Do qualche puntino Quella La carta esterna È finita Così Adesso Dobbiamo montare Quella interna Che a questo punto Dovrebbe essere asciutta E voilà Il nostro cristallo È pieno Pieno Di glitterazzi Adesso Cosa dobbiamo fare Mettere La colla Su tutta La superficie Introduciamo Intanto Una parte Centriamo Centriamo La bene E appiccichiamo E poi Facciamo la stessa cosa Anche da questa parte E adesso La faccio riposare Quindi scatto Scatto tantissime foto Ve le faccio vedere E noi ci vediamo Alla fine Perché ho ancora Qualcosina da dirvi Spero che vi piaccia Vedete come Con pochi elementi Due carte carine E pochi elementi Che potete Tranquillamente Scaricare da internet Si possa creare Qualcosa di Realmente Grazioso Speriamo Non si impiastricci Tutto Qua dentro Bene ragazzi Ora Lascio riposare Vi lascio alle foto E noi ci vediamo dopo Ciao Visto che bella La nostra card pop up E' molto carina Molto molto lucente La glitter past La trovate qui Quello made Quella che vi ho insegnato A fare Fatela in qualunque Colore voi desideriate E poi Sparate questi cristalli Di neve Per abbellire Il vostro natale Io spero che questa proposta Vi sia piaciuta Se è così Regalatemi un bel pollice in su E condividete il video Sulle vostre pagine facebook Io di questo Vi sono sempre grata Voi lo sapete Lo dico in ogni video E in ogni video Vi ringrazio Se lo vorrete fare Vi aspetto sempre Sulla mia pagina facebook Su instagram Su pinterest E soprattutto sui miei altri canali Due cuore una cappa E ombretta E soprattutto Vi aspetto sempre qui Per il prossimo video Sicuramente Dedicato al natale Vi voglio un gran bene Da ombretta Ed arte per te Tutto Ciao Alla prossima volta Ciao Ciao